una sozzeria torniamo in diretta parlando di serie B e ovviamente lo facciamo con chi è addentrato del settore diamo il nostro più caloroso benvenuto a Filippo D'Angelo, giornalista sportivo buonasera buonasera ragazzi ovviamente io stavo parlando nel fuori onda con tanto si è sentito quello che ho detto insomma è normale con Stefano di tante cose che nel mondo del calcio mercato che non vanno bene ci stanno e non vanno bene quindi l'ho definito una sozzeria io concordo con te bene parliamo di serie B che è un bellissimo campionato divertente quest'anno è realmente divertente cioè io non mi aspettavo delle partite di così alto calibro se possiamo definirle in questa maniera andiamo a vedere la classifica perché in quest'ultima giornata sono cambiate un po' le cose ma non la capolista che rimane il Frosinone che sta facendo un campionato quasi a sé anche se dietro c'è la regina che è a tre punti di distanza a sua volta il Bari e il Genoa sono terza e quarta con 30 punti a sei dal Frosinone insomma un campionato pazzesco tante squadre in pochissimi punti basta una vittoria una sconfitta un pareggio e qua cambia tutto e la cosa ancora più divertente è che come potete vedere Pisa Parma Suttirol e Ternana sono tutte quanti a 26 punti andiamo direttamente dal nostro ospite in collegamento Filippo cosa pensi non solo di questa classifica ma anche di queste quattro squadre che competono tutte alla stregua del nono posto no no possiamo definirlo così ma diciamo che anche dietro queste quattro squadre ce ne sono altre in un certo senso anche un po' più blasonate come il Palermo il Benevento lo stesso Cagliari o il Modena che nonostante qualche punto in meno hanno come obiettivo sicuramente quello dei dei playoff a parte il Frosinone che comunque si è primo in classifica diciamo l'andamento è stato un po' altalenante per per tutte quindi è in un certo senso poco facile capire come come finirà perché si il Frosinone ha sei punti di vantaggio sul terzo posto che al momento è occupato dal Bari però il Bari ad esempio secondo me è una delle favorite anche per la vittoria finale perché ha un grande organico ha una grande squadra e soprattutto ha il miglior marcatore del campionato appunto cioè ed è una squadra che comunque da un momento all'altro può cambiare le sorti del proprio campionato e delle altre squadre noi stiamo parlando però della parte sinistra alta della classifica se rivediamo anche la classifica parliamo della zona retrocessione perché anche lì sono tante squadre in pochissimi punti dal Cosenza al Venezia siamo lì insomma Francesco sì siamo lì anche perché adesso c'è stato ci sono stati dei risultati che hanno rimescolato un po' gli equilibri in coda abbiamo visto la vittoria del Como addirittura contro la Ternana abbiamo visto la Spal in casa della Ternana 3 a 0 e la Spal che è andata a vincere a Parma era anche un derby però che ancora una volta conferma quelle che sono le dinamiche della Serie B che non moriranno mai perché è sempre così il campionato di Serie B è talmente lungo è talmente pieno di è pieno di squadre forti che chiaramente vanno anche a periodi che chiaramente cambia sempre molto spesso durante la stagione anche a seconda degli infortuni esatto è bravissima proprio quello un campionato così lungo tanti giocatori lo dicevamo prima sono anche andati via alcune mondiali e quindi è normale che alcune squadre il Benevento ha sofferto anche il rientro di Camille Glick come è possibile soffrire il rientro di un giocatore come Glick te credo quello se ne è andato dall'altra parte del mondo a giocare un mondiale una dimensione totalmente diversa tornato immediatamente e buttato in campo insomma è anche questa la Serie B si può definire sempre il campionato delle sorprese perché poi se ogni anno diciamo che la Serie B è il campionato delle sorprese perde anche il senso questa definizione è semplicemente il campionato che è diverso dall'A l'A una scontata è un campionato avvincente mi viene in mente per esempio il Cittadella che ha conteso la salita in Serie A che si trova dopo una serie di risultati negativi si trova adesso in piena zona di retrocessione con il direttore sportivo Stefano Marchetti che credo sia tra i più bravi in assoluto in Italia perché spende poco e ogni anno produce un grande gioco grande attenzione ai giovani meriterebbe probabilmente un palcoscenico più importante però di fatto è venuto qui se non sbaglio anche il nostro ospite qualche settimana ed è credo sia veramente un simbolo di questa Serie B dove comunque Cittadella è un paese molto piccolo rispetto a altre realtà che albergano nel campionato cadetto e pure da del filo da torcere quindi auguriamo anche al Cittadella che possa risalire e attenzione al Suttirol perché è allenato da Bisoli che è sempre molto complicato affrontare che lo ha preso in una situazione dove il Suttirol era disperata e lo sta portando sempre più in alto più punti di tutti nelle ultime giornate insieme al Pisa del nostro amico Francesco e le due squadre nell'ultimo segmento di stagione che hanno fatto più punti insieme chiaramente al Frosinone perché se no non sarebbe sempre capolista nonostante un piccolo rallentamento e anche il Venezia però ha fatto bene parlando della parte destra della classifica che in realtà ha smosso anche un po' le acque perché perdere con l'ultima vuol dire aver perso tre punti importanti tre punti importanti anche per la decisione alla fine dell'anno di quella che è la classifica ad oggi andrebbero Cittadella Cosenza e Perugia retrocederebbero però sappiamo il campionato di Serie B è divertente anche per questa ragione perché non si sa né adesso né tra due settimane cosa potrebbe accadere Francesco è così l'abbiamo visto anche negli anni scorsi non si può mai sapere è un campionato incerto equilibri molto sottili è un campionato lungo dove conta molto avere una profondità di rosa importante servono due squadre per fare la Serie B se poi la vuoi fare con l'ambizione di vincere e di ripresentarti ogni anno o all'interno dello stesso anno dopo aver magari rifiatato in alcune partite devi avere i giocatori pronti devi averne tanti e devi averli soprattutto adatti ad un campionato come quello della Serie B che comunque fa parte del calcio italiano molte squadre magari comprano anche giocatori più forti di quel livello ma se non si ambientano poi diventa un problema quindi bisogna fare anche delle scelte con un criterio cercando di lanciare i giovani anche in quel caso perché chiaramente gli italiani nel campionato degli italiani è quello che serve anche vedere perché è sempre il campionato oltretutto formativo di formazione per i giovani del nostro campionato se poi vogliono arrivare a certi livelli in Serie A e giocare in un certo modo in certe squadre bisogna avere la cosiddetta rosa lunga come il Napoli come anche Spalletti dice posso dormire i sogni tranquilli perché ne esce uno e entra un altro di rilievo e che può sostituire benissimo chi è in campo esattamente vedi Osimèn che non gioca entra il ciolito Simeone che fa gol a Raffica ed è un ottimo discorso quello della Rosa Lunga Filippo è un ottimo discorso anche quello che faceva Francesco Mafera perché lui ha detto ci sono delle squadre molto interessanti con dei giocatori di prospettiva e il campionato di Serie B deve diventare un po' la palestra per i fenomeni del futuro della nostra nazionale e io direi e aggiungerei gavetta anche per gli allenatori e lo stanno dimostrando vedi Cannavaro vedi De Rossi attenzione poi parleremo anche del caso De Rossi ma sì è una gavetta sia per i ragazzi sia giustamente per gli allenatori che comunque tendenzialmente partono dalle categorie minori per poi avere un un'affermazione in Serie A perché se non hai le basi come fai poi a diventare un grande allenatore quindi le basi e le ossa si fanno in questi campionati che secondo me sono più livellati e quindi più difficili della Serie A non esistono più le partite semplici però se sai allenare bene in Serie B e in Serie C secondo me hai molte più probabilità di avere una carriera non vincente ma costante cioè nel senso hai l'opportunità di acquisire l'esperienza giusta per poi rimanere in pianta stabile in certi contesti e lo stesso vale per i giovani più che altro è un discorso che secondo me è importante sottolineare perché si valorizzano sempre meno giovani italiani e purtroppo l'Italia che non è andata al mondiale è collegata in un certo senso anche a questo discorso no? gli stage che propone Mancini sono sono una chiave sono anche uno stimolo per diciamo attirare le grandi squadre a giovani che poi comunque se non riescono ad andare avanti in Serie A è certo ma noi non consideriamo spesso e volentieri quando parliamo di Serie B sia una volta a settimana per almeno un'oretta bella e buona è un fattore che la Serie B Stefano arrivava ad anni disastrosi è stata commissariata addirittura erano dispari le squadre quindi una settimana una squadra rimaneva ferma roba veramente di un altro mondo che non è il calcio di un altro mondo nel 2022 che era nel 2019 18 è successo ora però la Serie B è un campionato pazzesco è stato riformato con grande successo poi c'è stato un po' come è successo con l'avvento di Berlusconi al Milan l'avvento di Berlusconi al Monza ha stravolto quelli che sono alcuni equilibri della cadetteria perché Monza ha diciamo ha speso tantissimo sia in Serie D sia in Serie C e sia in Serie B fallendo il primo anno con la semifinale con Cittadella se non erro poi è venuta quest'anno si sta affermando nonostante un inizio un po' delicato quindi quei valori economici hanno naturalmente portato un beneficio di attenzione perché comunque credo che sia molto più seguita in questo momento anche per i canali Sky perché le problematiche date da Dazone credo che siano state in parte superate ma Sky che si è come dire ha avvocato a sei diritti della trasmissione della cadetteria ha sicuramente fatto un ulteriore passo in avanti quindi ci sono contratti tre broadcaster addirittura che seguono la serie B esatto e credo tra l'altro credo che questo abbia spinto ad avere alcune piazze Cagliari Genova Parma hanno dei contratti degni della serie A un po' perché hanno dei calciatori a libro paga che magari abbassano e spalmano e sono rimasti però avevano contratti alti e rimangono tali pur scendendo in serie B la differenza la fanno le piazze anche come dicevi tu le piazze importantissime che non sono abituate a giocare la B ma che giocano la B per vari problemi e varie vicissitudini e fanno sì che il campionato di B salga ancora di più attenzione perché secondo me molto ha aiutato anche la presenza di allenatori di livello come no allenatori che abbiamo visto campioni del 2006 e nomi conosciuti e riconosciuti da tutti come tali sto parlando anche del Genoa perché c'è stato un cambio in casa Genoa adesso il nome è quello di Alberto Gilardino quello di Alberto Gilardino che ha fatto il suo percorso e questo ha fatto sì che lui arrivasse anche più pronto a questa nuova avventura è partito dalla serie D dal Siena poi ha fatto ancora un anno e alla fine ha fatto il settore giovanile prima dell'avvicendamento che è stato deciso nell'ultimo periodo con l'esonero di Blessing era pronto era in pole ma aveva anche un'esperienza alle spalle importante formativa e che quindi l'ha condotto fino ad allenare una squadra di serie B penso che sia arrivato al momento giusto quel gradino che lui ha fatto insomma adesso doveva essere un traghettatore Gilardino al possibile invece adesso rimane ancora due nomi su tutti nel percorso degli anni Spalletti sì è vero De Zerbi De Zerbi anche la C con il foccia però piccola parentesi e poi dobbiamo farvi vedere quella che è stata la diciottesima giornata vengo direttamente da te Filippo l'immagine di De Rossi alla spalla secondo te come può essere ad oggi vista perché i risultati ci sono e non ci sono o meglio non sono quelli attesi bisogna però anche dire che la gavetta di De Rossi è una gavetta molto corta ma sì è diciamo la sua prima grande esperienza in un certo senso no però giudicarlo in queste poche settimane non è cioè un po' fuorbiante perché bisogna giudicare al massimo un paio di mesi comunque una parte di stagione più consistente la Spall guardando la classifica è a meno uno comunque dai play out però è distante soltanto sei punti paradossalmente dai play off ha vinto il derby contro contro il Parma adesso comunque sarà atteso da da diverse partite complicate perché la prossima giocherà in casa contro il Pisa poi andrà a Reggio poi giocherà anche in casa del Cagliari sfiderà una serie di squadre comunque abbastanza toste se se De Rossi se De Rossi dovesse superare non ti dico per forza pieni voti ma con voti più che sufficienti queste queste partite e raccogliere diversi punti secondo me se ne parlerebbe in modo un po' diverso vero di De Rossi però scusami se ti interrompo Filippo perché ha iniziato con la Nazionale Italiana che ha vinto un europeo quindi non è che è andato poi come hanno fatto altri allenatori ma era comunque capitanato in maniera diversa attenzione ma non credo che abbia dei problemi a trovare un'altra scala qualora non andasse bene alla spalla non credo che abbia dei problemi cioè far parte di uno staff comunque è una cosa prenderla in prima persona non è non è lo stesso appunto ho detto una cavetta di un certo tipo cioè una cavetta che vale ma fino all'anno non come quella di altri sono completamente d'accordo è una cavetta una cavetta simile più o meno cioè ad esempio mi viene in mente Inzaghi che era partito dal Milan poi ripartito dall'AC tutti dopo l'esperienza al Milan li avevano comunque affibbiato questo appellativo che era più bravo il fratello starso tra virgolette fortunato e poi ha vinto il campionato con il Venezia ha vinto il campionato con il Benevento purtroppo poi è retrocesso perché aveva fatto una prima parte di stagione entusiasmante con il Benevento che aveva portato in Serie A e adesso nella regina sta facendo bene cioè tutti ne parlano bene ma Inzaghi è un allenatore che ha quasi dieci anni di esperienza e allena già da un po' quindi si fanno spesso degli accostamenti anche dei giudizi un po' troppo affrettati soprattutto in questa categoria Filippo D'Angelo grazie davvero per essere stato insieme a noi grazie a voi buona serata ciao ciao Filippo è un discorso interessante sarebbe anche quello di paragonare le varie cavette anche quella di Cannavaro quanto vale perché è allenato in Cina andiamo a vedere il punto della B a cura di chi Debora? della nostra redazione sportiva Buonasera e ben trovati con il consueto appuntamento con il punto della B finestra in cui andremo ad analizzare le principali situazioni inerenti al campionato cadetto e anche quest'ultima giornata ha dato tantissime risposte molte sorprese e anche a D in particolare al Cagliari perché dopo la vittoria per 2 a 1 della Palermo proprio contro i Sardi Giulini ha portato dunque questo a sciogliere le riserve in merito al tecnico ex Lecce Liverani non è più l'allenatore del Cagliari fatale dunque questa sconfitta contro il Palermo con la squadra che dunque per ora verrà affidata direttamente a Muzzi per poi decidere chi sarà il vero condottiero della squadra sarda che continua a viaggiare in zone non tranquillissime di classifica in poli il nome di Claudio Ranieri anche se oltre all'allenatore ex Roma tanti altri sono i nomi a partire da Beppe Iachini per poi passare anche a quello che potrebbe essere un ritorno ovvero Davide Ballardini ci penserà Giulini intanto l'obiettivo è quello di ritrovare compattezza all'interno di una squadra assolutamente ferita avete visto poi naturalmente anche la grafica con gli ultimi risultati di giornata andiamo a vederla insieme perché in questa diciottesima tanti sono i risultati che smuovono le situazioni a partire da Pita Regina Pita Brescia 3-0 e poi Regina Bari 0-0 un pareggio che comunque ben ommuale un minimo smuove la squadra granata allenata da Pippo Enzaghi perché se andate giù in fondo potrete vedere come il Genno invece con un 1-0 contro il Frosinone riesce a prendere a casa e portare soprattutto a casa tre punti fondamentali Gilardino per uno score di assoluto rispetto tre partite due vittorie un pareggio per un totale di sette punti conquistati più di una soluzione ponte sembrerebbe quella dell'ex violinista della Nazionale un Frosinone invece che ha avuto un calo e lo si vede dal fatto che dopo la vittoria proprio contro la Regione non scontro diretto è andata a più 6 ora si ritrova a più 3 e poi tutto il resto delle partite Cittadella su Dirol 0-2 Cosenza Ascoli 1-3 pareggio tra Modena e Benevento 1-1 vittoria che è stato ossigeno per la Spal di De Rossi 1-0 contro il Parma il Tonfo in casa della Ternana contro il Comodi Sesc Fabricas 3-0 netto con Aurelio Andrea Soli ancora la ricerca della formula perfetta per la squadra Umbra come abbiamo detto poi Palermo-Cagliari 2-1 e per concludere Genoa Frosinone e per concludere proprio la diciottesima giornata in totale invece Perugia-Venezia partita che si è giocata ieri sera e che ha visto l'ultima in classifica accorciare ancora di più verso le dirette concorrenti infatti con questa vittoria la squadra perugina riesce a conquistare 3 punti fondamentali portandosi dunque a 16 punti in classifica una zona lì dalle parti della retrocessione che continua a diventare sempre molto più calda così come caldi e anche belli sono stati i gol di quest'ultima giornata che ci andiamo a rivedere insieme Sulla ruota dello stadio Mario Rigamonti che oggi avrebbe compiuto gli anni faceva parte del grande Torino va di moda il colore nero-azzurro c'è un'azione particolare insistita ma c'è anche un fallo di mani determinato dal VAR Torregrossa al quarto minuto porta in vantaggio il Pisa nei confronti della Brescia tra l'altro il raddoppio arriva dagli ozzi al ventesimo di testa errore clamoroso di Portiere e dei due difensori centrali al sessantatresimo verrà espulso Adorni per il Brescia e all'ottantacinquesimo balla tutta la difesa e gli ozzi firma la doppietta personale Pisa batte Brescia 3-0 e Toscani che si sistemano a 26 punti sorpassando i 24 delle rondinelle lombarde il Sud Tirol passa al tombolato 2-0 nel derby del Trivenno sul Cittadella che paga clamorosamente un'espulsione quella di Danzi al ventesimo al primo tempo per somma di ammunizioni la squadra di Bolzano segna con Nicolussi Caviglia sul passaggio di Taita al ventinovesimo minuto e la formazione di Bolzano raddoppierà al quarantasesesimo con Odgo Vu che ultima Cittadella 0 Sud Tirol 2 continua la favola alto a Tesine al San Vito di Cosenza Lascoli fiuta e assapora la zona dei playoff adesso solo a un punto i marchigiani hanno 25 lunghezze il primo gol è di Donati su rifinitura di Dionisi al diciassettesimo all'ottantanovesimo tiro forte e teso di Gondò vale il raddoppio ma la partita si riapre proprio in zona Cesarini quando segna Nasti l'1 a 2 ma da grande squadra in contrattacco la formazione marchigiana segna dopo 60 secondi il 3 a 1 che vale i 3 punti in terra calabrese dimostrazione di gran personalità nella giornata delle imprese lontane dal campo amico termina con una X l'incontro della Braglia passano per primi giallorossi Sanniti in versione bianca esattamente con la Campor al 22esimo nel corso della prima frazione prima di rientrare negli spogliatoi il Modena rimette le cose a posto con Tremolata che manda in verticale Dio autore di un interessante pallonetto Modena Benevento termina 1 a 1 le due squadre hanno 22 punti come il Cagliari Sud Tirole e Pisa riprendono Parma e Ternana battute entrambe la Spal passa al Tardini con questa autorete sfruttata poi dal giocatore ospite Rabbia il 19esimo prima che la palla superi la fatidica linea bianca tre punti dopo per la squadra ferrarese che si sistema a 20 con la Palermo in attesa dei posticipi Una Ternana fermata da un palo e una traversa superata da Cutrone nel primo tempo perde 3 a 0 a Libero liberati da un Nacomo ordinato e da corsa qui a Cutrone sul passaggio di Blanco a superare i riflessi di Gianna Rilli è nel primo tempo che accade al quarto d'ora poi nella ripresa il 2 a 0 viene segnato da Ambrosino il cui primo tiro aveva già superato la linea bianca nulla valvolo nei proteste dei giocatori di casa perché è stato assegnato il gol e il terzo arriva in contropiede come Mancuso a Ternana completamente sbilanciata che fino al primo gol avrebbe meritato addirittura il Parigi Ternana 0 Comotre e Lariani 19 con Cittadella e il Venezia Con un gol per tempo il Palermo piega per 2 a 1 il Cagliari e prosegue la striscia positiva dei risultati utili consecutivi dopo un primo tempo a ritmi non elevati Rosanero sbloccano la gara direttamente sul calcio di rigore che si presenta a Brunori per l'1 a 0 a favore dei Rosanero per l'attaccante italo-brasiliano e il nono gol in questo campionato il Palermo raddoppia in avvio di ripresa su un cross da calcio d'angolo di Stulac Segre segre schiacci di testa per il 2 a 0 a favore del Palermo il Cagliari è corcia alle distanze nel finale in pieno recupero e riapre il match su un cross dalla destra Pavoletti batte Pigliacelli da pochi passi non evitando però la sconfitta per la formazione sarda cade la capolista allo stadio Luigi Ferraris il Genoa fa la voce cross e batte il Frosinone decide il gol a metà prima frazione di Gudmondson calcio d'angolo di Aramu spizzata di Banni con Gudmondson che sottoporta in fila Turati per l'1 a 0 a favore dei Rosso Blu il Perugia torna a vincere a corcia le distanze sulla penultima in classifica importante vittoria per la squadra di Mister Castori che si impone per 2 a 1 sul Venezia la gara si mette subito in discesa per il Perugia passano 7 minuti e Lisi sulla sinistra dribbla secco e tira in porta il tentativo viene deviato da Candela che si impenne e batte Ioronen per l'1 a 0 il Perugia ha il vento in poppa e poco dopo raddoppia con l'Euro goal di Lisi che controlla di petto e calcio in porta di destro al volo firmando la sua personale doppietta con un formidabile tiro da fuoriare che fa secco Ioronen per la seconda volta in questa partita negli ultimi secondi di partita il Venezia rende il finale meno amaro inutile il gol di Pognapalo che arriva troppo tardi per le speranze di rimonta dei lagunari che restano in piena zona a play out questo ciò che è successo dunque in questa diciottesima giornata risultati tanti gol spettacolari e allora inevitabilmente la classifica cambia direzione colore a partire dalla testa della classifica dove qui non cambia assolutamente nulla perché il Frosinone continua a rimanere in testa a quota 36 ma si avvicina sorgnona la regina di Pippo Inzaghi a quota 33 dunque meno 3 punti separano la regina dalla prima posizione con i ciociari che per ora possono ancora rimanere in testa poi a seguire il gruppo delle squadre che si stanno dando grande lotta per la zona play off parliamo del Bari insieme al Genoa a quota 30 punti poi il Pisa insieme al Parma a quota 26 così come anche il Suttirol e anche la Ternana insomma il gruppetto si trova tutto quanto lì poi si va in una zona franca dove le squadre non stanno rischiando particolari situazioni come Lascoli a quota 25 Brascia 24 e poi la parte destra della classifica con il Palermo a quota 23 e a seguire Benevento Modena Cagliari a quota tutti e 3 22 da segnalare poi come abbiamo detto precedentemente la vittoria che sta d'ossigeno per la spalla di Mister De Rossi che dunque esce fuori dalla zona play out anche se di pochissimo 20 punti per ora per la squadra ferrarese e a seguire la zona calda che parte con il Venezia in coabitazione con il Como a quota 19 punti e poi l'attrice della retrocessione con Cittadella Cosenza e Perugia rispettivamente a 19 17 e 16 punti questa la situazione relativa alla serie cadetta una serie B che continua a dare spettacolo che continua ad emozionare che continua ad avere situazioni totalmente in bilico noi intanto però vi ringraziamo per averci fatto compagnia l'appuntamento alla prossima volta con il punto della B e ringraziamo Andrea Mollas membro della nostra redazione sportiva ci fermiamo piccolo istante break pubblicitario e poi torniamo qui a cose di calcio e poi torniamo qui a cose di calcio a cose di calcio a cose di calcio e poi torniamo qui e poi torniamo qui e poi torniamo qui